Il 13 settembre riaprono le scuole. Anche le aree degli istituti scolastici torneranno dunque ad animarsi e ospitare un grande movimento di studenti. Per garantire che gli spostamenti possono svolgersi in sicurezza, è importante osservare poche semplici regole di comportamento. Se arrivi in bicicletta o a piedi, usa rispettivamente le piste ciclabili e i marciapiedi. Fermati in alcune situazioni, per esempio per usare il cellulare, in modo da metterti in sicurezza e non essere di intraccio ad altri. Per chi deve prendere l'autobus c'è modo di farlo con calma e senza calcarsi. Ci sono infatti più mezzi che vanno nella stessa direzione e nei medesimi orari. Non salite tutti sul primo bus disponibile. La convalida del biglietto può essere fatta con abbonamento digitale, con lo smartphone, e potete acquistare il ticket singolo anche tramite QR code direttamente a bordo. Ricorda di tenere a portata di mano la mascherina e indossarla se ti avvicini agli amici oppure quando ti trovi in luoghi affollati. Sono presenti i cestini per rifiuti e posaceneri per mozzicconi di sigaretta. Usali correttamente. Torniamo a scuola insieme e in sicurezza. E buon anno a tutti gli studenti!